Quanto è fusa, piccolina, dove sei amore? Quanto è fusa, quante fusine, mettiamo la pappina amore, bella, piccolina, non c'è tanto spazio qua amore per giocare, sei stata messa in emergenza qua, non era preventivato, qui però c'è un giochino per te, un giochino c'è, perché c'è tanta roba qui amore, tanti trasportini, questo era un depositino, non era un alloggio gattini, sai, è stata un'emergenza a metterti qua, non capiamo cosa hai, ora la veterinaria ha detto che prenotiamo una bella ecografia con l'ecografista che viene apposta per te, però già queste fusa sono molto belle stasera, molto, molto belle, ora mettiamo la pappina e puliamo qua che ti è caduta la pappina, va bene? Tesorino, devi guarire amore, avevi una bella tozione e l'hai persa, ora fino al giorno 15 preghiamo Dio e la Madonna e tu devi guarire, il Signore ci farà questa grazie.